buongiorno a tutti ragazzi oggi siamo qui con un nuovo video è un video speciale perché non è un video di pesca ma un video presentazione prodotti se siete stati attenti sui nostri social abbiamo fatto qualche post in merito se non li avete visti iscrivetevi in modo da rimanere aggiornati sia il canale che i nostri canali social e oggi facciamo una nuova presentazione prodotti a marchio pesca match abbiamo lavorato duramente nei mesi passati per cercare di trovare dei prodotti davvero di qualità altissima sono prodotti davvero fatti per durare che non hanno nulla da invidiare a prodotti per quanto riguarda l'agonismo infatti possono essere indirizzati a sia a chi fa agonismo ma anche chi fa magari pescate un po più a livello hobbistico hanno dei prezzi davvero interessanti quindi vi consiglio di guardarli io direi di non perdere altro tempo e di andarle a vedere più nel dettaglio io direi di partire con il fiore all'occhiello è il nostro fiore all'occhiello perché è un rullo pensato principalmente per l'agonismo è ovviamente fatto di come vi dicevo prima materiali davvero di altissima qualità strutture in alluminio mentre i rulli sono ammortizzati quindi in eva per non danneggiare la canna con una forma particolare che non permette alla canna di scavallare anche con forti venti ha davvero tantissime feature che vi permettono di utilizzarlo praticamente in tutti i campi gara come l'altezza delle delle gambe che hanno praticamente due snodi che vi permettono di allungarla fino a cento ventidue centimetri ai cuscinetti a sfera indipendenti quindi a prescindere dalla parte che andrete a girare girerà in maniera indipendente hanno il gancio per eventualmente appendere il peso comunque di già di base un rullo abbastanza stabile come peso siamo sui cinque chili quindi non è neanche qualcosa di intrasportabile le misure come dicevo è utilizzabile sia da piatto quindi senza piedi aperti che anche poi alla massima estensione arriva fino a cento ventidue centimetri e come lunghezza totale dei rulli arriviamo a 82 centimetri di lunghezza totale quindi davvero un prodotto adatto per l'agonismo non ha paura di temere campi gara anche magari scoscesi come possono essere magari il cavolama centrale utilizzabile volendo anche in laghetto o quando si deve smezzare parecchie volte la canna ogni tanto capita anche nei laghetti quando magari ci sono più linee di pesca ora possiamo passare al suo fratello minore questo qui è il rullo lake ha praticamente le stesse caratteristiche come vedete si può richiudere per occupare meno spazio questo qui anche lui cuscinetti indipendenti ha un pianale utile di 48 centimetri è davvero compatto leggero parliamo neanche di tre chili gambe regolabili in altezza anche questo qui l'abbiamo chiamato lake perché ovviamente è un pochino più adatto per chi pesca nei laghetti chi non ha voglia di un rullo ingombrante o comunque vuole qualcosa di un po di compatto ma comunque facile da trasportare questo qui è l'ideale inoltre riesce a raggiungere un'altezza da terra fino a 80 centimetri passiamo ora al poggia punte poggia punte di modello classico quindi 12 posti gambe regolabili in altezza struttura in alluminio super stabile abbiamo messo anche qui il gancio per raggiungere eventuale peso davvero non teme nessun problema su anche pianali scoscesi tutti questi prodotti inoltre quindi i due rulli e il poggia punte vengono forniti di sacca per il trasporto sacca super resistente comoda con cerniere rinforzate ed eccoci qui con gli ultimi due prodotti per il momento aspettatevi altri prodotti sicuramente in futuro stiamo parlando di questi contenitori in eva termosaldati quindi assolutamente impermeabili troviamo la versione bait un pochino più indicata per le esche che è questa qui sono divisi in tre che entrano tutti uno dentro l'altro tutte e due le versioni sono con anello in ferro in alto qui che li rende indeformabili termosaldati assolutamente impermeabili facili da pulire e super comodi per utilizzarli con esche pastura o anche per riporre piccola minuteria abbiamo appunto questo modello che è il modello bait e questo modello un pochino più grande che è il modello ground bait con una bacinella molto più grossa e due invece più piccoline da circa un litro e mezzo ed eccoci qui ragazzi con l'intera gamma al completo io come al solito vi invito ad iscrivervi mettere mi piace se volete rimanere aggiornati sia sui nuovi video che sul lancio di eventuali prodotti vi lascio il link in descrizione sia per avere maggiori informazioni o anche eventualmente se volete acquistarli davvero dateci un'occhiata perché hanno un prezzo super interessante soprattutto il nostro rollo fiore all'occhiello per qualsiasi domanda non esitate a scrivere nei commenti io vi ringrazio e al prossimo video